Una tre giorni di spettacoli ed eventi in occasione dei festeggiamenti in onore della Santissima Annunziata a Licusati, dal 16 al 18 maggio. Si parte il 16 maggio con l'Annunziata dei Bambini, dagli ore 18 per le strade del paese, gonfiabili, animazione, artisti di strada, popcorn e zucchero filato. In serata invece lo spettacolo Cantiamo anche noi, al quale parteciperanno i Bambini di Licusati. Il 17 sarà Simone Schettino, il fondamentalista napoletano, a calcare il palco della manifestazione, a seguire a Riffo Show, all'asta prodotti di attrezzi legati alla terra, un decespugliatore, una capra, formaggi, vino, olio, prodotti artigianali e tanto altro. Il 18 si concludono i festeggiamenti con il concerto di Michele Zarrillo, una delle penne più importanti della musica italiana, grazie a brani quali Cinque Giorni, La Notte dei Pensieri e non arriveranno i nostri.